Adesso gli operatori sono distanziati, abbiamo dovuto liberare questo ambiente che era dedicato ad altri operatori che non dell'urgenza e ci abbiamo messo qua gli altri due operatori. È il vice direttore del 118, il dottor Giovanni Sbrana, a spiegarci come in questo momento gli operatori della centrale operativa stanno lavorando in sicurezza. Dietro alle sue spalle vediamo un modello di lavoro che può essere un esempio. Ci siamo rifatti ai modelli virtuosi, anche ieri era la giornata mondiale del lavaggio delle mani, il ministero ha spinto su questo e credo che bisogna dare un messaggio di fiducia e di correttezza nel momento della ripartenza ma di sicurezza assolutamente per tutti. Ci è piaciuto l'hashtag lanciato sui social molto di meglio, mani, distanza, mascherina, che consente a tutti di riprendere un'attività lavorativa nella sicurezza, nell'organizzazione, in un sistema chiaro in cui chiaramente ci vogliono un pochino più di distanze tra i lavoratori e quindi degli spazi più grandi, un pochino più di attenzione nel lavaggio delle mani e nella sanificazione. Io credo che questo ce lo porteremo a casa in generale al di là del Covid. Nell'Oriente si dice che le tragedie possono essere grandi opportunità. Credo che su questo possiamo, abbiamo sicuramente imparato, abbiamo imparato per esempio che le riunioni qualche volta si possono fare in videoconferenza senza fare chilometri e ottimizzando i tempi al meglio. Inutile dire che i numeri dal punto di vista soprattutto delle chiamate informative sono aumentati in maniera vertiginosa nel momento dell'emergenza sanitaria. Nelle prime settimane di marzo, dal 5 fino al 18-20 di marzo, abbiamo avuto un picco di 900-950 informazioni utenza a settimana contro le 220 dello stesso periodo del 2019. Adesso il numero si è un po' sistemato e in aprile abbiamo fatto una media di 500-540 informazioni utenza a settimana, che comunque sono più del doppio di quello che facevamo normalmente. Noi dobbiamo considerare tutti i pazienti potenzialmente a rischio e quindi dobbiamo proteggere gli operatori con dei dispositivi di protezione individuale, IDP, nel modo corretto, a seconda del tipo di impiego, del tipo di manovra e del tipo di esposizione che viene fatta. E poi dobbiamo sanificare il mezzo di soccorso. Questo impegna più tempi per il recupero del mezzo, più peso e carico di lavoro sugli operatori, sia sui soccorritori volontari che sul medico e gli infermieri. Il prezzo che hanno pagato tra medici ed infermieri alla centrale del 118 rispetto al Covid-19 è stato molto alto, oltre 15 le persone che sono rimaste contagiate, tra loro anche il dottor Giovanni Sbrana che ci spiega, si può guarire ma la tensione deve rimanere sempre molto alta. Non sono abituato a metterlo in prima fila, lo faccio se serve a dare un messaggio di speranza, l'ha detto lei correttamente. Si guarisce per fortuna di Covid, io sono stato un fortunato con una forma lieve, si sta attenti, soprattutto se posso dirlo, si deve essere attenti a isolarsi ai primi sintomi. Io sono uno abituato a venire al lavoro anche se non sto bene a fare così. La mattina, la ricordo bene, la mattina smontavo dalla notte in pronto soccorso, non mi sono sentito bene, sono andato a casa di corsa con la mascherina e mi sono chiuso in casa, lontano dai figli, lontano dagli amici, lontano dai colleghi. Ho aspettato il tampone, devo dire, grande servizio dell'azienda, l'igiene ha fatto un grande salto per adattarsi a questo e poi ho seguito le indicazioni, le cure, sono stato a casa e per fortuna è andata bene. Ma è andata bene soprattutto perché credo di non aver infettato nessun collega, nessun parente, nessun amico, né i miei figli piccoli che erano a casa. Questo richiede educazione civica perché alle volte si tende a fare un pochino, a forzare un po' i percorsi, a fare un po' da soli. E invece questo, secondo me, è il messaggio migliore che si può avere dall'educazione Covid. Autolimitarsi, autoisolarsi dai primi sintomi e seguire le indicazioni del servizio sanitario.